SINNACO PROVVEDIMENTO Sindaco, provvedimento ad inizio estate ZTL dalle 18 fino alle 4 di notte. Una scelta che già suscita l'indomani nella diffusione della notizia un certo dibattito? In realtà secondo me è una scelta normale nel senso che se il riferimento è all'orario in realtà noi abbiamo già due stagioni estive in cui abbiamo fatto la ZTL la prima volta mi sa che abbiamo fatto un orario che finiva a luna credo la seconda volta alle 2 e in entrambi i casi si generavano soprattutto nelle serate di agosto che erano molto affollate si generava che appena si riapriva la strada i passeggini dovevano poi barcamenarsi con le macchine che già si introducevano nelle vie in questa maniera come in tante altre città si fa si dà la possibilità di defluire tranquillamente perché è chiaro che alle 2 chiudono tutte le attività commerciali ma si dà la possibilità di defluire alle persone e soprattutto anche alle attività commerciali di ritirare tavoli, sedie con estrema tranquillità chiaramente con il presupposto di base che tutti i residenti e i mezzi autorizzati possono comunque sempre passare Altra scelta quella di un provvedimento che durerà questa volta tre mesi lunghissimo quindi scatterà dal 30 di giugno fino al 30 di settembre come mai questa scelta? In realtà noi dal nostro insediamento abbiamo detto che puntavamo tanto su un centro storico che si doveva dare sempre di più ai pedoni abbiamo dotato la città di infrastrutture che potessero far realizzare questo quindi i barchi elettronici ma anche i piloni disfasori automatici che praticamente sono stati inseriti in alcune aree pedonali e quindi progressivamente stiamo facendo quello che era previsto nel nostro programma elettorale è chiaro che i primi due anni senza questi strumenti elettronici è stato un po' più complicato perché si è dovuto ricorrere sempre alle solite transenne con la sorveglianza della Polizia Municipale adesso è molto più semplice quindi avremmo iniziato anche un po' prima se non ci fossero stati lavori in via caricatore ma adesso siamo pronti per partire e quindi si sta iniziando questa ZTL con questi orari che appunto iniziano dalle 6 del pomeriggio C'è chi dice che di pari passo la ZTL deve andare avanti con il programma dell'estate si accenze lei già è pronto il programma, il cartellone dell'estate, gli eventi, gli spettacoli che possono portare effettivamente gente in centro perché un centro senza degli spettacoli, degli eventi e la ZTL rischia di subire l'effetto contrario Sicuramente il programma della stagione turistica è importantissimo ma a prescindere questo dalla ZTL ma per la crescita della città è pronto sarà deliberato in giunta la prossima settimana quindi poi faremo una conferenza stampata anche su quello e quindi le cose andranno avanti di pari passo quello che però mi permetto di dire è che non necessariamente sono concatenate sicuramente sono legate ma non legate a doppio filo nel senso che io credo che la fruibilità da parte dei pedoni del centro storico comunque è un fatto che va tenuto anche in considerazione come cosa a sé stante nel senso che l'evento e sono anche i negozi aperti la possibilità di fruirne passeggiando per strada è chiaro che poi la sera è importante avere anche l'evento organizzato che ti permette di attirare anche gente da fuori e che si viene insomma a divertire a Sciacca e quindi dà la possibilità anche alle attività commerciali di lavorare Avete già concordato con i commercianti questa ZTL ZTL è una scelta concordata perché di anno in anno abbiamo assistito insomma a varie amministrazioni che hanno tentato di portare la ZTL per poi fare marcia indietro non c'è il rischio che faccia la stessa cosa anche lei? No, no, questo è il nostro punto focale del programma quindi lo vogliamo percorrere con forza e nel rispetto chiaramente anche delle altre posizioni però è un nostro punto del programma tant'è vero che c'è stato un confronto con le varie organizzazioni dei commercianti ma anche delle strutture ricettive si è arrivati poi ad una formulazione di questa ZTL che è quella che presenteremo oggi Giuseppe Caruana, il sindaco appena dichiarato questa ZTL è stata concordata con i commercianti abbiamo più volte assistito negli anni ad amministrazioni che tentano formule diverse di ZTL tranne poi dopo una settimana, dieci giorni fare un passo indietro perché le proteste dei commercianti insomma tirano la giacchetta un po' all'amministrazione questa volta sarà così o no? I commercianti sono davvero d'accordo? Intanto abbiamo apprezzato sicuramente l'apertura da parte dell'amministrazione comunale alle associazioni di categoria non ai commercianti perché la parola commerciante comprende anche una varietà di attori che insomma non sono tutti aderenti alle confederazioni e alle associazioni di categoria come commercio e come spazio centro oggi qui Fabio Venezia non è potuto venire ma assieme a me ha concordato una serie di diciamo di un rapporto che abbiamo cercato di portare avanti con l'amministrazione per concordare e aggredire quelle criticità che nel tempo abbiamo riscontrato e che da sempre mettiamo in evidenza non è sicuramente la prima volta per meglio gestire la ZTL quello che abbiamo ricevuto è stato appunto un'apertura e in particolare su alcuni temi precisi come la segnaletica verticale e orizzontale una segnaletica importantissima che verrà realizzata anche con il nostro contributo per l'indicazione dei parcheggi che verranno istituiti in città con proprio l'indicazione ad andare in quelle zone per fruire del centro storico quindi proprio un messaggio di no stress parcheggia e viene in centro storico naturalmente i servizi annessi allo spostamento dai per le zone del nostro centro storico importantissimo abbiamo ottenuto il bus navetta diretto che partirà dalla perriera e servirà il centro storico passando per via Gare di Caraffe una continuità a titolo gratuito quindi un invito ai nostri concittadini a lasciare l'auto a casa a fruire dei servizi per poter arrivare in centro storico in maniera più tranquilla non stress e questi sono alcuni dei servizi che abbiamo fortemente voluto e che l'amministrazione comunale sia impegnata a mettere in atto nei giorni in cui la ZTL sarà attiva Dalle 18 alle 4 di notte vi soddisfa come orario? Allora, inizialmente c'era anche una proposta di anticipo dell'orario e il 18 diciamo che è stata una mediazione che abbiamo concordato sostanzialmente dopo la chiusura della stragrande maggioranza delle attività commerciali poi diciamo che è un problema che si ripercuote più sulla cittadinanza che non sulle attività commerciali perché al di là di quelle poche che restano in attività anche per la notte poi diciamo che interessa è un provvedimento che interessa una fascia notturna di gente secondo noi diciamo anche un po' eccessivo arrivare fino alle 4 delle notte potrà andare benissimo l'orario già concordato precedentemente l'una o le due delle notte a seconda delle giornate dei weekend tuttavia vedremo questo provvedimento con sempre diciamo l'impegno dell'amministrazione a eventualmente rivedere qualora ci siano criticità e a sistemarle ove necessario specifico e quindi a